Lanciare il cuore oltre l'ostacolo è quello che stanno facendo in questi giorni gli operatori sanitari, gli eroi dell'emergenza Covid-19 coronavirus sul fronte in prima linea. In queste ore sul territorio si moltiplicano le iniziative di solidarietà soprattutto per il reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona, ma quella dell'associazione Diadema assume anche un significato diverso perché Diadema sa che cosa significa salvare una vita. Il sistema sanitario è messo duramente alla prova dell'emergenza coronavirus. L'associazione Diadema insieme a tutta la cittadinanza vuole essere a fianco dei sanitari che operano nell'ospedale di Sulmona attraverso una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un ventilatore da donare al reparto di rianimazione. Liban IT 45 Y03 124 40 800 00 00 00 23 31 01. Causale donazione emergenza Covid-19. In fondo basta un piccolo gesto per rispondere alla raccolta fondi avviata da Diadema in collaborazione con il sogno di Aya Ollus. Tutti uniti proprio per un unico obiettivo far battere ancora il cuore di chi si trova dall'altra parte in corsia.